Il tedesco che mi dava il suo rancio Quando io ho raccontato alla signorina maestra quella del soldato che mi dava sempre il suo rancio lei quasi piangeva e mi ha domandato come era il soldato e io le ho detto tutto allora la signorina mi ha insegnato che quando si scrive di una persona bisogna scrivere tutto come che è fuori che quello che è male io ho detto di sì a me piace scrivere ma qualche volta sono anche stufo di star là sempre a scrivere perché mi piace di più andare a giocare per fortuna che sono sagrestano che devo levare su molto presto quando tutti dormono per suonare le Ave Marie e poi da messa e prima di scuola mi resta tanto tempo che posso scrivere e poi alla mattina mi viene fuori meglio chissà quanta fatica avranno fatto quelli che hanno scritto i nostri libri di scuola che sono grossi così ma adesso scrivo proprio quella del buon tedesco un giorno sono andato su sul piol e via in fondo seduto per terra c'era un soldato che mangiava il suo rancio e adesso lo scrivo come ha detto la maestra era magro ma magro che si poteva contare tutti gli ossi e aveva la faccia bianca come una camicia e i capelli tutti neri ed era stufo che pareva che piangesse io guardavo la sua gavetta e lui mi ha dato una mano e mi ha preso sul braccio poi lui non ha più mangiato e mi ha dato tutto quello che c'era dentro dopo io andavo sempre su e lui a mangiare era sempre là e mi prendeva sul braccio e mi dava da mangiare e qualche volta un cucchiaio lo mangiava anche lui dopo non so quanti giorni non l'ho più trovato e mi sono messo a piangere forse sarà morto quel soldato me lo ricordo sempre e lo conoscerei anche se fosse in mezzo a tanta gente come al mercato l'ho detto tante volte anche a mia nonna e lei mi ha detto che forse era un padre che aveva a casa i figli che avevano tanta fame anche loro poi mi ha detto che io potevo anche essere morto di fame se non c'era lui e mi ha fatto pregare per lui io non mi era mai pensato di pregare per lui ma adesso ogni volta che mi viene in mente gli dico un po' di orazioni è una notte che mi sono svegliato e mi sono pensato di lui e mi è venuto in mente che quello là a darmi il suo rancio sarà morto per colpa mia e che i suoi figli non avranno più il papà per colpa mia e non ero più buono di dormire e allora ho detto molte più orazioni per tutti